Lo scopo in sostanza è quello di adeguare il servizio taxi della città di Bari ai livelli essenziali di offerta in relazione ad un'utenza sempre in crescita, anche e soprattutto in virtù del continuo incremento dei flussi turistici. E' così che tramite una nota ufficiale il Comune di Bari ha annunciato il via alla sperimentazione dei taxi a doppia guida in città. Parte oggi come da delibera, è stata deliberata. Ovviamente adesso c'è da fare tutta una procedura burocratica per far sì che possa funzionare perché il Comune deve sapere quale taxi usufruisce della doppia guida, quale sarà l'autista che sarà sulla macchina e gli orari che sarà in atto la doppia guida, che è principalmente, almeno come fase sperimentale, visto che la nostra richiesta maggiore, soprattutto nel periodo estivo, è la notte con l'arrivo dei voli low cost insomma che arrivano quasi sempre in ritardo, quindi la fascia oraria da mezzanotte alle 3 del mattino è quella più critica per noi, quindi è quella la fascia oraria che sarà interessata dalla doppia guida. Ovviamente siccome tre ore sono poche, è stata ampliata dalle 20 alle 3 del mattino. Una sperimentazione alla quale il Comune intende affiancare l'ampliamento del turno fino ad un massimo di 10 ore giornaliere per 132 taxi fino al prossimo 31 dicembre, in attesa del bando per l'estensione di nuove licenze. Forse saremmo stati il primo Comune a chiederla come comparto taxi perché effettivamente se c'è una domanda alla quale bisogna rispondere è giusto che noi in prima persona ci mettiamo in discussione.